Tamin Jaboudi è tunisino, ha due anni ed è in carcere a Tripoli, in Libia. Il padre, combattente dell'ISIL, potrebbe essere morto dopo una raid aereo statunitense a Sabrata nella 2016. Della madre non si hanno notizie. Il nonno materno, sostenuto dall'associazione Ratta, che si occupa delle famiglie dei foreign fighters, chiede che sia liberato. La prima volta che ci siamo incontrati in carcere non si è voluto avvicinare a me. Ha abbracciato lo sceicco che conosce molto bene. Tutti lo amano e soffrono, perché lui è un orfano. Il piccolo si trova in una prigione di Mitiga, vicino Tripoli. Non si hanno notizie precise sullo suo stato di salute. Non è l'unico orfano in Libia. Sono 22 bambini tunisini che si trovano nelle prigioni del paese. Ad occuparsi di Tamin Jaboudi sono donne che hanno aderito allo stato islamico. Lo stato islamico lavora su tre livelli, a breve, medio e lungo termine. Nel breve termine si impegna per reclutare giovani che lasciano i propri paesi per andare in Libia, Siria e Iraq. Il passo successivo è far partire l'intera famiglia, spiega Mohamed Ibikel, a capo dell'associazione Rata, che si occupa anche della reintegrazione dei combattenti dell'ISIL che decidono di tornare. Secondo questa associazione, il carcere non è la soluzione per questi bambini che devono far ritorno in Tunisia.